Le relazioni della Commissione europea dicono che negli anni le disparità sono aumentate nonostante le risorse ingenti previste per combatterle. Perché? Perché quelle risorse venivano stanziate ma molto spesso non venivano spese. Oppure venivano spese male, magari dagli stessi che poi andavano in piazza a stracciarsi le vesti sugli aiuti necessari al mezzogiorno. E guardate, non lo dico io, lo dice la ragioneria generale dello Stato che sulla programmazione dei fondi di coesione del ciclo 2014-2020 a fine 2022 fotografa una situazione intollerabile in forza della quale su 126,6 miliardi disponibili ne risultavano spesi 43. Vuol dire che decine di miliardi che si potevano mettere particolarmente sul mezzogiorno per combattere le disparità non si erano spesi. E allora noi abbiamo messo mano a questo problema, abbiamo verificato opera per opera lo stato d'attuazione della programmazione 2014-2020, abbiamo definito le priorità da sostenere con la nuova programmazione, abbiamo approvato il decreto sud che istituisce i fondi di coesione, chiedo scusa, gli accordi di coesione per concentrare le risorse su progetti strategici che vengono condivisi con le regioni, assicuriamo così anche una gestione seria delle risorse, anche prevedendo un meccanismo di definanziamento per quelle che non vengono utilizzate e l'utilizzo dei poteri sostitutivi in caso di inadempienze. Cioè da oggi le risorse arriveranno tutte a terra. Con lo stesso decreto, Presidente, concludo, abbiamo attivato anche la zona economica speciale unica per il mezzogiorno e anche qui voglio ricordare misura che nessun governo era riuscito ad ottenere, non parliamo più di piccole zone economiche speciali, in particolari territori, parliamo dell'intero mezzogiorno che diventa una zona economica speciale che vuol dire che chi domani investe sul mezzogiorno potrà vantare incentivi e semplificazione amministrativa e quindi verrà, diciamo così, incentivato a investire in questi territori. E io credo che questo sia l'approccio giusto perché è un approccio che punta sulla responsabilità, sul merito e sulla possibilità per il mezzogiorno di vedersi riconosciuti non dei sussidi ma strumenti per poter competere ad armi pari nel contesto globale e poter dimostrare finalmente il grande valore che ha. Questo è il nostro approccio e è quello che stiamo realizzando.